Alla Lidl, da giovedì 6 giugno. Avvitatore ricaricabile a cricco, ideale per punti difficilmente accessibili, massima coppia 54 Nm, alloggiamento da 3 ottavi, con incluso adattatore quadrato da 3 ottavi a 1 mezzo, a 29,99€. Seghetto ricaricabile per potatura, massima capacità di taglio 80 mm nel legno e 50 mm nei profilati di metallo e tubi in metallo, a 29,99€. Moto sega ricaricabile per potare alberi e cespugli e per sminuzzare rami freschi, ideale anche per tagliare tavole, legname squadrato e rotondo o per lavori di bricolage, massima lunghezza di taglio 12,5 cm, a 29,99€. Trapano avvitatore ricaricabile, ideale per avvitare e forare legno, metallo e plastica, massima coppia 28 Nm, intervallo di serraggio del mandrino da 0,8 a 10 mm, a 19,99€. Smerigliatrice angolare ricaricabile per tagliare metallo, a 19,99€. Pistola spara punti ricaricabile, con manopola per la selezione della potenza del colpo, in dotazione alla valigetta 400 graffi da 10 mm e 100 chiodi da 15 mm, in offerta a 19,99€. Fresatrice verticale ricaricabile, adatta per le comuni frese con albero da 6 o 8 mm, in dotazione e 6 frese per legno, battuta parallela, 2 morsetti da 6 e 8 mm, chiave e adattatore per aspirazione esterna, a 44€. Lampada LED ricaricabile da lavoro, con testa dell'apparecchio inclinabile in 8 angolazioni, corpo con fissaggio magnetico e 2 livelli di luminosità regolabili, 6500 gradi Kelvin e 480 lumen, a 9,99€. Batteria da 2A con carica batterie, della serie X12V Team, a 19,99€, oppure batteria da 4A a 24,99€. Utensili da lavoro, a scelta tra portapunta angolare con 7 bit per trapano, albero flessibile, estrattori di viti HSS, punte per cerniere, 7 frese a tazza, a 3,99€ alla confezione, e acquistando 2 confezioni pagate solo 5,98€. 7 chiavi, 8 pezzi, a 9,99€ al set. Salopette da lavoro per uomo, in offerta a 14,99€. Pantaloni da lavoro per uomo, in offerta a 11,99€. Boxer da uomo, 2 pezzi, a 4,99€. Calze corte da lavoro per uomo, 3 paia, a 3,99€.